Eccoci qui, una giornata al centro Nidra, inquadrata è Caramella, la mascota del centro. Questa è un'area comune con computer e televisore. Uscendo troviamo la piazzetta con i computer collegati. Proseguendo via la reception. Qui abbiamo il ristorante con un'annessa veranda con un panorama mozzafiato. Ecco il panorama. Salendo ancora. C'è la cucina. Lì abbiamo il parcheggio. Gli stanno costruendo la nuova sala conferenze, ufficio e tutti i vari nuovi uffici. Credo che lo facciano con il misto case di paglia e altre costruzioni naturali. Questo è l'ingresso del ristorante, la bottega. Qui abbiamo un amico di Caramella che fa la penichella anche lui. Qui davanti a noi abbiamo i bagni. Un dolce, bagno singolo, riscaldamento. Il riscaldamento. Abbiamo poi una bella lavanderia. Asciugatoio. La sauna. Lì c'è il fiume con la sua cascata. Queste sono le case, i bungalow. Vi è anche più avanti l'agriturismo vero e proprio. E per una soluzione più economica abbiamo i tendoni. Tendoni tipo protezione civile. E per una soluzione ancora più economica si può venire con la propria tenda. In fondo sono gli orti. Altre bungalove. E finiamo questo filmato nella sala comune dove troviamo due gatti che giocano. E così come iniziato il filmato con Caramella finisce con Caramella che si fa la sua penichella. Notare che abbiamo anche il televisore per le serate comuni per i cineforum, altri computer. Quindi com'è che chiude Valentina a mezz'ora dal mare? A mezz'ora dalla montagna. Grazie. Grazie a tutti.